Per cercare di capire come i greci riflettivano appunto sulla dinamica del potere è interessante rapportare Crizia, Creonte e Agesilao, tre figure che in fin dei conti sono un attimo diverse e che attenzione i primi due e Crizia e Creonte sono specificatamente tirani. Uno è fondamentalmente un tirano di stampo storico, l'altro è un tirano Creonte che compare nell'antigone di Sofocle. Per quanto invece riguarda Agesilao, egli non è un tirano ma è un re di Sparta che prende il potere totalmente da un punto di vista legale e anche se non è un tirano comunque la sua impostazione, almeno così come descritta da Senofonte, ci può far capire e intendere il senso del potere anche differenziato dal senso della tirannia, si potrebbe pensare all'interno dell'antica Grecia. La cosa importante perché attenzione, una grande differenza che contraddistingue Crizia e Creonte è fondamentalmente il presupposto di come essi impongono la loro tirannia e in fin dei conti come ciò avviene, cioè la loro tirannia avviene. Infatti, primo punto, Crizia prende la tirannia, cioè prende il potere e diventa tiranno utilizzando la violenza quando vi è l'abbattimento del senso, si potrebbe dire, del nomos atenese o anche in un certo qual modo del diritto atenese. Tale per cui, alla fine della guerra del Peloponneso, dopo l'ultima grande battaglia di Egospotami, dove poi appunto gli spartani riuscirono a chiudere, si potrebbe dire, gli atenesi entrano a loro città e non potevano più uscire e naturalmente avevano perso tutta la flotta, non potevano più utilizzare il porto e stavano tutti morendo di fame. Essi stessi gli atenesi furono costretti ad arrendersi a Sparta, furono costretti ad arrendersi al generale Lisandro e poi gli atenesi, che erano anche filo spartani, si accordarono con appunto gli spartani, con Lisandro e costituirono un governo a favore degli spartani, in particolar modo in supporto degli spartiati. Le mura atenesi furono rase al suolo e ci fu appunto in Atene il cosiddetto governo dei trenta tiranni cappeggiato da Crizia. Questo è molto interessante perché ci dà l'idea di questa tirannia come metodologia di abbattimento del diritto antecedente o anche del senso politico antecedente, tale per cui la democrazia viene meno e si impone il senso della tirannia. Lo stesso Senofonte nelle Leniche quando esemplifica questo tipo di atteggiamento, al di là che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, lui comunque era favorevole a questo tipo di governo dei trenta perché era filo spartiata Senofonte, però c'è il procedimento tale per cui a un certo punto si nota come Crizia comincia a violare il senso della giustizia. In realtà ci sarà anche tutto questo dibattito con Teramene, cioè colui che fa parte del governo dei trenta e comincerà a comprendere come lo stesso Crizia stia in realtà violando un senso di una norma che è fondamentalmente legata alla consuetudine del diritto. Questo è interessante perché la tirannia di Crizia, la tirannia dei trenta, si sviluppa propriamente come abbattimento della consuetudine che i greci atenesi hanno sempre vissuto all'interno della realtà atenese, tale per cui il senso democratico, il senso partecipativo era venuto meno. E sì, magari si potrebbe pensare, gli stessi trenta in certo qual modo posero un certo tipo di consiglio per far apparire questo tipo di situazione una simil democrazia, ma la verità era che era un'origarchia, ma specificatamente era il potere dei trenta, ancora più specificatamente era il potere di Crizia. Infatti Crizia poi manderà a morte lo stesso Teramele. Il presupposto quindi interessante, cioè la tirannia atenese del 404 a.C., che finirà entro un anno, si svilupperà appunto per un senso di imposizione attraverso quel diritto esterno. Molto interessante questo perché ci fa capire un presupposto. Il diritto esterno, cioè il diritto del più forte, che vince sull'altro, quindi Sparta vince su Atene, allora Sparta decreta su Atene e decide per le sorti atenesi. E infatti Crizia sarà proprio il diritto che opporrà a Teramene e sarà proprio il diritto che esemplificherà per mantenere il potere. Ovvero sia, non esiste un diritto generale, non esiste più il diritto della consuetudine politica della polis, esiste il diritto del più forte, inteso come non c'è solo il conflitto tra Ceti all'interno di Atene, all'interno delle città. Crizia, tra l'altro, fa parte di questo conflitto. Lui è anche aristocratico, ma c'è anche il senso esterno, tale per cui il vincitore decide sul vinto. Io però sono anche aristocratico e sono riuscito a mettermi d'accordo col vincitore, tale per cui la democrazia ha fallito, la democrazia di quel senso popolare, anche in certo qual modo pericleo, e qui sarebbe tutta ad aprire la parentesi su quanto davvero pericleo in realtà agisce per i suoi interessi, ma il presupposto è fondato, cioè il presupposto è che Crizia poi vuole mantenere il potere sulla base di quel senso del diritto del vincitore sul vinto, che tra l'altro sarà esemplificato tantissimo anche nei dialoghi socratici. Ed è qui molto il presupposto, e infatti qui capiamo perfettamente come la tirania dei trenta si esemplifica e come Crizia impone il diritto del vincitore su Teramene, eliminando Crizia ogni tipo di giustizia che Teramene può cercare. Per quanto riguarda invece Creonte, non c'è tanto un atteggiamento, il Creonte di Antigone, non c'è tanto un atteggiamento di abbattimento della procedura giuridica in sé per sé, Creonte è colui che domina su tutto e può decidere, e in tal senso egli decide per non seppellire il fratello di Antigone Polinice, ovvero sia non far seppellire il fratello di Antigone Polinice. Questo è interessante perché l'approccio tirannico di Creonte non solo si attua tanto da un punto di vista appunto dell'imposizione della violenza, ma si ha, o si potrebbe dire, del senso del diritto che cambia e ora diventa lui il senso del diritto, cioè la sua figura diventa il senso del diritto, infatti lo dice perfettamente nell'Antigone, io sono il diritto, almeno nella prima parte. Successivamente, o meglio, io sono la legge, il termine diritto non c'era nell'antica Grecia, però io sono il nomos, io sono colui che indica ciò che deve essere fatto, però è colui che cambia anche il senso, in certo qual modo, dell'impietà. E questo è molto interessante perché la tirannia di Creonte non si limita soltanto a indicare un senso di procedura di ciò che va fatto e ciò che non va fatto dal punto di vista del diritto, come poteva essere il dibattito solamente sul tema della giustizia, cioè politica e il senso dell'opposizione politica tra Terramine e Crizia. Questa cosa va anche oltre, rimane sempre naturalmente nel meandro politico, ma sì, e vince andando ancora di più oltre, ovvero sia Creonte ha anche la presunzione di indicare ciò che è religioso fare e ciò che non è religioso fare. In particolar modo Creonte ha la presunzione di dire che in fin dei conti le divinità non valgono poi così tanto rispetto fondamentalmente al tema della sepoltura. Ovvero sia Creonte indica il presupposto, secondo lui, che costui, in particolar modo, cioè Polinice, non ha dignità di essere sepolto. Naturalmente Antigone esemplifica il tema del potere, cioè dicendo ok, tu magari esemplifichi questo perché ti credi il tiranno e quindi credi di poter comandare su tutti noi senza in certo qual modo essere comandato da altri e quindi mi impedisci di seppellire mio fratello. Però la consuetudine del diritto, non tanto del diritto inteso come nostro diritto realmente umano, ma il diritto anche delle divinità, impone che costui sia sepolto. E se tu impedisci questo, in fin dei conti stai violando il diritto implicito delle divinità stesse. Tale per cui naturalmente c'è questo senso di dibattito, si potrebbe dire, tra Creonte e Antigone. Infatti Antigone, opponendosi a Creonte, non solo si oppone da un punto di vista politico, ma fondamentalmente anche di stampo politico-religioso. Cioè Antigone utilizza l'argomento e poi seppellisce il fratello Polinice. E Creonte naturalmente andrà su tutte le furie. Ma il presupposto è molto interessante, perché ci fa capire anche che il senso greco è probabilmente anche un senso che coinvolge fondamentalmente il tema dell'impietà. Infatti collegando questo atteggiamento tra, da un lato, Crizia, e dall'altro l'atteggiamento di Creonte, possiamo notare che i greci, in questo senso, soprattutto da un punto di vista storico all'interno del V secolo a.C., diversi greci cominciarono a collegarsi al tema della tirannia come particolare attenzione nei confronti di coloro che stavano acquisendo sempre più potere politico da un lato, e qui si veda anche il collegamento che si potrebbe fare con la situazione a Corinto di Timoleonte, però, ad altro lato, c'era sempre il pericolo, in questo senso, che qualcuno sconvolgesse le dinamiche della divinità e si imponesse sul resto. Ora, la tragedia di Antigone è un po' l'esaltazione di questo, cioè non solo c'è un uomo che sconvolge, si potrebbe dire, il senso del diritto implicito secondo Antigone, ma è anche un tiranno, cioè colui che non mi vuole far seppellire Polinice, non è un uomo comune, è un tiranno, e in fin dei conti, costui secondo Antigone, non è degno di, diciamo in certo quel modo non è degno del suo ruolo, perché un uomo che dovrebbe stare al comando dovrebbe permettermi di seppellire come consuetudine mio fratello. Il presupposto comunque è interessante perché, in ogni caso, c'è un collegamento anche col senso di Agesilao, tuttavia, cioè col tema del re di Sparta. Infatti, in certo qual modo, le parole di Antigone non scalfiranno Creonte, è come se Creonte sia un personaggio che indicasse il fatto che lui vuole comandare, ma non vuole essere comandato da alcuno, e Antigone, in fin dei conti, non può fargli cambiare idea. Per quanto riguarda invece Agesilao, è interessante notare come Agesilao sia re di Sparta, ma non sia superiore alla procedura di Sparta. Infatti Agesilao, tra l'altro esemplificato appunto da Senofonte nella sua opera specifica dedicata ad Agesilao, indica come Agesilao, durante la spedizione in Asia Minore, in terra persiana, e riuscendo anche, conquistando diverse terre, a un certo punto si è richiamato a Sparta. Ma Agesilao non è che dice, no, guarda, io per i miei interessi particolari decido di non tornare a Sparta. Agesilao torna a Sparta. Però Agesilao qui non è un tiranno, ovviamente. Agesilao qui è un re. È un re che, sulla base della diarachia spartana, ha due re, sulla base del fatto che esiste un certo tipo di procedura, via fuori a Sparta, che decidono, e decidono nel senso sono coloro che analizzano la situazione, cioè se qualcuno sta uscendo dal costume di Sparta. Poi c'è la Gerusia, che è l'assemblea di costoro, degli spartiati, dei più anziani, che prendono le decisioni legislative sulla base anche dei sì e dei no della pella. Agesilao sa qual è la struttura spartana, sa che in realtà lui è lì come uomo, che deve essere anche responsabile, almeno così lo esemplifica Senofonte, di Sparta. Quindi non può prendere una decisione superiorem non reconnaissance, cioè non può essere colui che è superiore al resto e in fin dei conti determina il resto. Agesilao sa perfettamente, all'interno del suo senso di consuetudine, che è determinato dal resto. E pertanto decide di tornare dall'Asia minore, naturalmente, poi verso i territori della Grecia, in particolar modo poi ci sarà lo scontro di Coronea in Beozia nel 394 a.C., nella cosiddetta Guerra di Corinto, dove Agesilao vincerà contro i Tebani, alleati appunto degli Atenesi, degli Argivi e dei Corinzi. Questo però ci fa capire appunto diverse cose, cioè l'idea appunto è che lo stesso Agesilao a un certo punto, ovviamente non essendo tiranno, ma essendo colui che è lì in modo legale, essendo colui che deve rispettare dei costumi, non può atteggiarsi a modi tiranno, perché in realtà è un re e è re da un punto di vista specificatamente legale. Tra l'altro è un senso anche comprensibile, nel senso si potrebbe dire che per certi versi l'atteggiamento di Creonte simula per certi versi un po' l'atteggiamento dei tiranni di Magna Grecia all'inizio, ovvero sia quei tiranni che non hanno interesse alcuno a un certo tipo di consuetudine, ma hanno interesse in fin dei conti a mantenere il dominio, a mantenere il potere. Ora, per quanto riguarda l'atteggiamento di Agesilao è più un atteggiamento di colui che sa che ha un ruolo e che sa che comunque è sotto a delle leggi, quindi a differenza di Creonte che vuole comandare e non vuole essere comandato da alcuno, Agesilao comanda, ma sa che è comandato e infatti torna dall'Asia minore in Grecia. Invece, per quanto riguarda Crezia, lui in realtà comanda, non vuole essere comandato, ma sa che in fin dei conti è comandato dalla legge del più forte. Questo è molto interessante perché Creonte non vuole nemmeno sottomettersi alla legge del più forte, Creonte vuole comandare e basta e non vuole nemmeno essere comandato da alcun'altra legge. Infatti, quando Antigone si oppone a lui, se si oppone a me una donna e io la risparmio, tutti diranno che non solo il senso del più forte è venuto o meno, ma diranno anche che sono caduto sotto una donna, quindi com'è possibile? Non posso farlo. E invece Crezia si abbassa in certo modo al senso del diritto del più forte e risponde adotteramene guarda che in realtà ormai vige il diritto del vincitore, lo spartano, sul vinto. Gli spartani hanno vinto la guerra del Pelaboneso, ora è loro il diritto. Noi non possiamo farci più niente, anzi io ci sto dentro benissimo e decido io perché in realtà sono in certo modo in collegamento con gli spartani. Gli spartani mi hanno dato giurisdizione a me ormai qui dentro e decido io alla fine che cosa fare dei nostri concittadini perché il diritto qui non vale più, vale il diritto di Crezia in collegamento con gli spartiati. Ciao.